che come sempre vorrei stagliare per pensare in sensità se dice aiutare e hovidare il reloccolo se dice aiutare il reloccolo non la DNC e l'espero se dice aiutare che se dava non la domanda si eto aiutare non ti fai capito che non ti ait'explicazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.